Ma siamo solo all'inizio di questa finale di... Senti, vorrei sul palco i Preti a Portè, che bellissimo nome. Mi dite un po' di luce, grazie, mi dite là in fondo un oggetto curioso. Eh? Non ho sentito, forse è meglio così. Leccapentole. Vieni a spiegarcelo qua che cos'è o...? È meglio per pulire le pentone dalla crema che basta. Una spatola, non c'è di spatola. La spatola di silicone, bastava che dicessi la spatola di silicone, non so neanche cosa sia quella perché io mangio e basta in cucina ma... Va bene, la... La leccapentole... Leccapentole, 9,99€ su Mediashop. Grazie. Leccano una schiazza patate! Sarà... Stasera facciamo l'angolo della cucina. Va bene, Tupperware. Questa sarà il tema, la leccapentole di questa Forward Reverse. Ah, l'arbitro allora avrà la possibilità di far tornare indietro l'improdizzazione. Sì, ma anche di mandarla avanti. Andarla avanti, tornare indietro e gli attori dovranno ripetere esattamente quello che hanno fatto riproducendo le battute al contrario. Ma cosa succede se ne sbagliano? Beh, ovviamente se ne sbagliano il pubblico può andare boom, come sempre. 5, 4, 3, 2, 1, e... Non c'è l'urta. Oggi... Non c'ho voglia di fare niente. Reverse? Vi ci sto per provare. Oggi io c'ho voglia di fare niente. 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 È pronto l'appacchio? Infatti faccio sempre tutto io a casa. Aspetta, è pronto l'appacchio. Adesso accendo il gas. questo abbacchio è crudo dannazioni questo abbacchio è crudo dannazioni è pronto l'abbacchio? se non faccio io qui eh? è pronto l'abbacchio? guardate l'abbacchio è pronto, è pronto è già pronto ecco qua è pronto mangia un abbacchio intero quanto mi costi? quanto mi costi? dimmelo in faccia quanto mi costi? reverse dimmelo in faccia quanto mi costi? reverse quanto mi costi? davanti dimmelo in faccia quanto mi costi? advance quanto mi costi? quanto mi costi tantissime quanto mi costi? forward Vabbè, ok, vai! Eh, non capisci? Io devo raggiungere i 904 chili! Io spendo tutto per te e tu almeno ci pensi! Guarda la mano! Neanche soldi per curare la mia mano! CRASH! Reverse! Guarda la mano! Forward! Guarda la mano! 899 chili! Tu mangi tutto! Tu mangi qualsiasi cosa! Quelle patate sono per me! Sono solo per me! Adesso prendo la pentola, la metto sul tavolo e io la lecco tutta! No! 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 E io la lecco tutta! Prendo la pentola! 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 Prenda! Prenda! Mi hai mangiato anche le patate! Io moriresti di fame! Stai per uccidere il tuo conquilino! Se io passerò alla selezione, tu sarai sempre con me nel mio regno! Questo è il finale epico, ma vediamo back to the top, se riescono a tornare all'inizio. E' vero scotale! Dai, come ne vio regno, segretino! Tu stai per uccidere il tuo concullino! Beh! Quelle patate... Lo so, lo so! Sì, lo so, sono tutto! Aspetta! Beh! Ok. Ma tu mangi tutto! La mano! La mano! La mano! Mi dammela! Che è la best! La mano! La mano! Ci stanno, ragazzi! Quanto mi costa? Quanto mi costa? Su, faccia a faccia voglio la moviola! One, two, mi costa di... Non so... Non so... Sì, anch'io ti amo! Ma ora è pronto a fare l'abbacchio? No! La bacchia è qui! La bacchia è qui! Svegliati, per favore! Adesso! Non c'ho mai a rifare niente, però! Non dentro! La bacchia è qui! What? La bacchia è qui! La bacchia è qui! Grazie a tutti, grazie a tutti.